Buongiorno a tutti, sono Alessandro Angiolillo, responsabile marketing del gruppo FAMAR. Mi trovo quest'oggi presso la sede della Fausto Marinello in occasione del collaudo del nostro centro di lavoro FM13. C'è raggiunto quest'oggi il signor Comunello, responsabile dell'omonima azienda Fratelli Comunello, che si occupa della realizzazione delle più innovative soluzioni di apertura e chiusura dei cancelli e dei portoni. Quali sono state le caratteristiche principali che hanno fatto propendere la vostra scelta verso i centri di lavoro Fausto Marinello? Sicuramente l'alta produttività, l'affidabilità e la compattezza delle macchine. A seguito del collaudo e avendo visto la macchina lavorare, quali sono le vostre prime impressioni? Le impressioni sono buone, la macchina risponde ai requisiti richiesti. Adesso vediamo a settembre con il collaudo della FM15 se risponde bene sul mondo degli stampi.